mi chiedo come starà andando nella dimensione del king verranno distrutti dal king eva all'attacco distruggiamo questa immondizia e recuperiamo tutto il godo necessario per diventare fortissimi pronti eva all'attacco attenti sto per arrivare un colpo incredibile cosa vogliamo Klauschide tranquilli vai Pinco Ballone Pinco Ballone siamo sicuri si possa difendere vai Pinco Ballone difeso Pinco Ballone è famoso per la sua difesa non l'avevo considerato quelle inutile cose ci penso io continuate ad attaccare oh no sta arrivando Klauschide Pinco Ballone Pinco Ballone Pinco Ballone Pinco Ballone ridurre inutile e fastidioso l'attacco maledetto trucio potere a tua fine trucio oh no addio trucio i vostri stanno troppo forti con il potere della base finale addio trucio chi è il prossimo? è il momento del vostro papo per fargli pagare questa oh 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 questa creatura cattiva hai fatto male pure le pesane noi vi chiediamo qui un po' dietro è il momento arma del codo bastone del natale oh pensi di fare qualcosa prendi questo bastone natalizio inutile vecchio non è finita pensaci tu animo il oh no ottimo lavoro animo il giorno ottililo fermo prendi questo papo intanto le tue pefane sono distratte Alessandro arriva ci vorrà appena altro per sconfiggere il papo forse ultimano dobbiamo fare qualcosa anche noi oh pura forse ultimano usare un po' di fegato come hai usato nella fight guardate contro Krakowski Krakowski penna dell'artista ti salvo io babo prendi questo Krakowski ma sono Krakowski oh no oh no Krakowski oh di no bacchetta arrivo Krakowski attenti solo alle vostre spalle attenta Manu ora attaccati insieme pefane adesso ce la pagherese vero smelagina adesso ti la pagherete ma che stai e la pefane attenti adesso mano vicina alla bocchetta carica a me e e ne e prefane non e quista volta no! E' la fine per voi, distruggi, eccolo che arriva! E' tanto provato per me! Spal dry, distruggi! Sono scivolata, peccolo! Attente a Befani! Cosa ti ho convinto a passare dalla parte di quel bruco maledetto? Sussesketro! Ti ho promesso qualche cosa da sussesketro, ma non l'avrai mai che chiunque da retta a quel bruco fallisce! Tu, fare la stessa fine, sei ancora in tempo per redimerti! Sclucio il potere! Non sono più il truscio di una volta! Puoi ancora chiedere... Non capisci... Da quella parte ho sento dei combattimenti incredibili! Ehi, che cosa sta aguantando! Forza, forza! Penso che con quell'elefante e quello sfigato di artista pensi di sconfiggermi, papà, è la vostra fine! Vedrai adesso che irriterà, ma hai detto bruco! Taccuino dell'artista! Viena dell'artista! È il momento! Perciò la pacchetta dell'artista! Stop! Arriva! Non posso muovermi! Lo posso continuare! Lo farò vedere! Ocino Magic! Arrivile! Questa Alessandra non si fermerà! Devo solo resistere ancora un po'! Ottimo lavoro! Bobbo Splash! Caglia! Bobbo Splash! Mi aspettavo mi schiacciassi col tuo corpo! Grazie! Maledetto Bobbo! Bobbo Bobbo! Sono esistito appena altro! Bobbo Splash! Adesso! Bocchetta! Adesso la tua fine! Bocchetta! Cosa? Appena è in tempo! Oh! Quello sociale! Mi sto andando a portare! Oh! Maledetto Sus! E' scherzo! Ho ragione! Si sta aprendo! Un'energia incredibile deve essere il portale che ha preso Sus! E' scherzo! Attenzione tutti a terra! Su me sta! Siamo usciti dalla dimensione del King! Ma qui che sta succedendo? Stanno tutti combattendo! Su me sta! Tutto bene! Sus! Tutto a posto però! Potete darmi una mano però! Su me sta! Ma non ho le mani! Ho capito Sus! Oh! Il vostro scherzo ha combattuto incredibile ed è stanco! Si è dovuto portare il King incredibile! Forza King! È il momento di svegliarti! King! Ah! King sveglia! Sveglia King! Insomma se siamo a corto di energia noi dopo questo combattimento incredibile Può pensare come sta il King! Guarda è stravolto! Oh! Ma l'innaggia il King! Ma qui che succede? Ragazzi tutto bene! Oh! Osso pianta! La fiducia è sotto controllo! Grazie ai tuoi alleati! Siamo vicini a battere queste inutile creature! E adesso il vostro babbo lo... Cosa? Oh no! Non c'è più! Su me sta! Attenzione! Eccolo laggiù! Maledetto brucu! Cosa vuoi fare? Attenzione state giù al riparo! Non lo meriteresti tu di essere protetto! Ma il vostro babbo ha buon cuore! Protezione natalizia! Oh babbo fai entrare retti! E' troppo tardi! Lui ci ha fregati! Avevo detto di aspettare babbo babbo! Ti maledetta! Vieni! Tu sei parte del piano! Una macchina come te! Capace di prendere il caso! Finalmente la inutilità! Io sarò anche questi inutili eh! Ma non mi siete serviti a niente! E' arrivato il momento! Ehi! E' passare il santo! Di diventare la creatura perfetta! Grazie anche a voi! Avete caricato la maschera! Giù! Devi stare! Attivazione rituale! I miei miei maschera! Adesso che è tutto pronto! Morirete tutti! Oh no! Oh no! Oh no! Cosa succede? Oh no! Cosa succede? Oh no! C'è riuscito! Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Ragazzi tutto bene? Camera ma tutto ok? Io mi girerei alla tua destra se fossi in te! Cosa? Ma cos'è quella cosa? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Finalmente! Il mosto Alessandro il bluco! È asceso! E adesso... Per voi è finita! E adesso, con questo potere, io vi distruggerò uno, ad una, fatemi sotto, avete una bellissima barriera, peccato che non ci sarà più, addio. Sus, come facciamo adesso, siamo distrutti, siamo tutti a pezzi, la barriera è andata via, babbo, la pianta ha distrutto la barriera del Natale con una facilità imbarazzante, è veramente potentissimo adesso, forza babbo e coraggio, ho capito, posso, adoro il tuo entusiasmo, ma non ti rendi conto della situazione in cui siamo, sto per attaccare, attenzione, a riparo tutti, cosa fai, peccopallone? E adesso arriva il dessert, morite, ma cosa state facendo ora, vabbiamo distrutti, niente, non è un tagliacchini, ma che carini, volete fare uno scudo per proteggere quei disgraziati, ho, che dolcezza, morite in nome della pista, ops, non ci sono più che sbagliato, pensavano di fermare il potere del vostro Alessandro e scorre il potere della pista e scorre il potere della cancellazione e adesso toccherà poi essere cancellati, rimane solo questo di loro, sono stati dei milioni straordinarie la bocherai befane unite distorciamolo abbostrè pensi veramente di potermi sconfiggere inutile vecchio questo è veramente colpito prima muori meno uno e adesso muori ma che dà non ha giubito danno mi hai fatto il solidico con quell'inutile spolverino morite idiote meno uno meno due il prossimo it's me it's me oh ciao animal come va hai visto quanto sei detto help me oh aspetta ti aiuto io oh sto stringendo troppo forte animal mannaggia peccato che stessi sono completamente inutili non mi sia servito a niente penso che sia arrivata l'ora della tua fine animal farai la fine di quei cadaveri laggiù oh fermati addio trugio he told the truth animal hai fatto le tue scelte questa sarà la mia scelta addio anche a te animal voi non mi provate a scappare idioti oh no state attenti oh no ehm non importa combatteremo anche per l'onore loro sono morti insomma sta credo li abbia privati del godo non hanno più energia oltre a essere stati massacrati è già tanto che non sono stati vaporizzati anche lui evidentemente ci vuole un po' per caricare il colpo di cancellazione abbiamo perso tutti i minion del natale è pronta a trasformarti insomma siamo senza godo non possiamo fare niente king niente king king ancora dorme ehm che cosa stai facendo ragazzi oh voi ci avete su un corso primo il mostro di no è Krauski darà una mano vai Krauski oh il mostro di Kankowski non si farà abbattere da questo robot gigante vi salveremo questa volta è il momento di un di no è Krauski è Krauski cosa vuoi fare idiota è veramente un danno incredibile tacquino troppo tardi troppo tardi stai qui non mi fermerai oh ti definisci un artista povero idiota l'unica opera d'arte che avverrà questo artista sarà la sua tomba addio anche per te cosa vorresti fare elefante è Krauski è un formile oh oggi c'è un magic assorbimento di godo non mi fai più oggi c'è un Krauski alle spalle adesso morirai andami la bocchetta andami la bocchetta ultime parole elefante ogni no magic crepa e adesso rimanete solo voi ossa in pianta come dice permesso di fare male a tutti i nostri compagni maldito sto messo a dove va scheletro punch oh complimenti mi hai fatto quasi muovere peccato che non è abbastanza oh maldito sto messo a tutto metterlo sus sus dove vai cameraman devo fare qualcosa sto messo a non può fare tutto siamo senza energia ma dobbiamo combattere tu guarda il king devo fare da babysitter al king cameraman vai king tutto bene king king bisogna avere tempo e fiducia bella massima king buon veglia di drillo sus adesso perirai se fosse la sua storia non riesce a sollevare un idiota no ti fanno fare più male ai nostri amici pianta non sai mai quanto è il momento di arrenderti perirai anche tu addio drillo sus muori sus deve essere terribile veloce a vedere i tuoi amici distrutti non poter fare niente niente da accettare sus da accettare sus su questa attenzione ma la finita tutti e ucciterò anche quel tuo inutile cameraman come è successo nel godoverse ho pensato che il godoverse versi in belle condizioni mentre l'abistominerà il godoverse io diventerò il conquistatore di quest'universo nessuno può fermare alessandro il bruco e adesso cadela per il tuo momento di addio alla tua inutile vita non credo proprio è nei momenti migliori che si sfodano le armi muori cazzo me l'ero tenuta dal teaser per poter fare una figura al decente coglione adesso mi sto su ogni cosa cosa king king tutto bene giovane cosa fai al king te lo mi riconosci pregno king 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 punch king 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 maledetto king il ballo del king hail to the king è rimasto tale o quale il godoverse verosus ora capite perché lo odiamo king hail to the king ho poca energia baldo giovane sei riuscito a sopravvivere incredibile il tuo king si allisce i baffi tra felicità king comunque cosa ci faccio qui tu chi sei non sei il cameraman che avevo nel mio incredibile podcast king incredibile scheletro sus la cry come sono finito in questo universo dove è il vice dove è tutti maledetto bruco c'entra tu il king questa volta ti distruggerà ricorda baldo cameraman bisogna sempre avere pazienza e determinazione vedrai il potere del king ricorda l'attesa è tutto cosa intendi king vedrai 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 io ho fiducia nell'energia del godo spada del king non lo farai king king baldo giovane aiutami pensavo che la tua energia fosse finita king dopo il fallimento se ne ho che riuscito a sconfiggere quando eri corrompo pensi che ti farò usare la tua spada ti addio la tua inutile vita king la spada evocata non era per me vai giovane cameraman cosa? cosa? succede? no questa è la spada che avevo visto nel video della spada e la roccia ma quindi era un messaggio del king lo hai capito giovane nel tuo momento preparati a affrontare la tua fine bruco king king il braccio feccati questo lascialo stare ottimo lavoro mio braccio maledetto camera vieni qui lascia stare il mio futuro vice cosa? lascia perdere distrappero il braccio la maniera del king king redetto king peace power cosa succede? sta fermando tutto il regolo questo vostro king non aveva previsto vostro king non aveva previsto questa cosa hai fatto un buon tentativo king questa volta mi sa veramente la fine cosa dico sempre scheletro non mi stare così vicino bisogna avere tempo e fiducia lo dice il king 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 cosa intendi king ci vuole tempo e fiducia lo dice sempre il king mi avete costretto a usare molto potere per eliminarvi questa volta basta distrugge ogni cosa mi avete pure piegato un'antenna sfera di cancellazione devo tornare a copa non ha più godo nessuna godo qui su sa ragione king devo impedire che venga tutto distrutto adesso adesso mi vollo bene cancellazione non è possibile cosa succede tutto bene all'incirca lui no circa non è possibile cosa succede cosa king king tempo e fiducia cosa è lui veramente guarda cosa hai combinato maledetto broco hai fatto del male per tutte queste persone i miei amici broco questa volta la pocherai perché non è arrivata la tua cazzo di fine l'anno di come a castore è arrivato shepard no devi crepare ora nonno stai attento mi proteggerò l'anno questa volta è arrivato il momento shibu wapai sta schivando il corte shibu wapai quello che hai fatto nel codoverse in questo universo è un anno di boccavacastoro conosciuto come shepard capitano dei guardiani dello spazio prendi questo shepard spuma broco prendi questo vuoi sconfiggermi maledetto broco io sono la massima creazione ho il potere e la pista non posso perdere aspetta non ti fai niente sbovo punch che 60 00 che saràibile la morte stai per morire bruco maledetto i Shepard non si colpirò prima loro non lo farà i Shepard di addio ai voi amici come ho fatto creatura schifosa Shepard 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 muori muori cosa no giustizia è fatto la maschera è spezzata mi vuol stare alzando un po' a finire così la tua mi distruggerò tutti RT cosa stai facendo maledetto no ci vuole far scoppiare a riparo tutti no RT no 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 non è rimasto niente solo la maschera spezzata quel criminale ha avuto la fine che meritava ma purtroppo mi dispiace trugio non sono riuscito a salvare RT come state tutti la giusta fine per un eroe in fondo voleva diventare un eroe era una macchina più cosciente di tante altre persone tutto bene ragazzi il vostro non era arrivato sei stato abile anche tu un cocosseo come ti chiami? Zoel piacere piacere sei stato abile a combattere contro quella creatura a proteggere i tuoi compagni alla stima dall'unità di Papa Castoro sbobbo sbobbo grazie che vuol dire sbobbo sbobbo? no un'altra volta come state amici tutto bene ragazzi? non ci posso chiedere il nonnino sei arrivato mi siete mancati ragazzi da una vita che non ci vediamo il vostro schietto abbraccia fortissimo il nozzo di nonnino e il nonno di Papa Castoro ma guardalo è potentissimo aiuta anche gli altri però basta mi stai facendo male stai strisolando il tuo nonnino vado ad aiutare gli altri io avrei bisogno però di qualche spiegazione non puoi capire Cameron ma il nonno di Papa Castoro in realtà si chiamerebbe Shepard però diciamo che per noi è sempre il nonnino di Papa Castoro è un personaggio mistico del Godover considerato uno dei guerrieri più forti del Godover ed ex generale dei difensori dello spazio del Godover che difende il Godover da tutta l'entità malvagia specialmente il Beast Clan che sta conquistando il Godover a una velocità incredibile si ma nonno ma come ci sei finito qui? la storia è lunga e qui c'è molta gente da salvare credo che mi rimanderemo in presentazione un'altra volta vai Cameron aiutami e King dov'è? ma c'è anche il King qui ma è stato corrotto dalla Beast King l'ultimo ricordo che fosse incredibile King mi ha liscio i baffi stavo al concilio e stavo proteggendo il mio vice dov'è il mio vice? il vostro nonno ha brutte notizie un po' per tutti perché dovete sapere che molti dei vostri compagni non ci sono più e compreso il tuo vice vado a aiutare Schepardt non avevo mai visto il King così triste la situazione più grave del previsto abbiamo vinto una battaglia ma la guerra è ancora lunga abbiamo sconfitto quel maledetto bruco per sempre anche grazie al sacrificio di RT sarà lungo rimettere a posto i pezzi il vostro nonno mi deve spiegare molte cose sono cambiate molte cose è un miracolo che il vostro nonno è riuscito a arrivare in tempo sareste tutti morti altrimenti per mano di quella creatura mostruosa il nonno ha sempre ragione è un buzzo di saggezza adesso direi di rimettere a posto i pezzi e poi vi racconterò tutto vieni cameraman dacci una mano andiamo a cameraman è finito di sistemare sì ho quasi fatto cameraman ho quasi fatto ma quindi sei sicuro che vuoi lasciare titoli là cameraman è l'inizio di un nuovo percorso anche per noi sono successe un sacco di cose è giusto che ci sia una partenza fresca per tutti quanti e questi titoli sono il passato e devono rimanere qui come ricordo per tutti quanti wow scheletro non ti ho mai visto così serio maldetto Zoel come mi hai chiamato? cameraman ti ho chiamato come vuoi che ti ho chiamato? mi sembrava che sii chiamato Zoel ti sei sbagliato andiamo cameraman dobbiamo fare i video dobbiamo farlo per noi e per loro anche le loro morti non saranno inutili bisclan quando vi troveremo ve la faremo pagare e andiamo cameraman dobbiamo andare a fare i video per noi e soprattutto anche per loro è il momento di una nuova partenza wow vedremo che succederà ciao 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 Grazie a tutti.